In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Rito, dichiara Schettino Francesco colpevole dei reati a lui ascritti, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 1122 del Codice della Navigazione, contestata in relazione al delito di naufragio, e quella della colpa cosciente in relazione al delito di omicidio colposo plurimo, applicati gli aumenti per l'aggravante di cui all'articolo 61 numero 3 Codice Penale, in relazione al delito di naufragio di cui all'articolo 589,2 Codice Penale, nonché di cui all'articolo 112,1 numero 3 Codice Penale, in relazione alle contravenzioni dolose di cui al Capo B, unificate le suddette contravvenzioni nel vincolo della continuazione, e ritenuto infine il concorso formale tra i due reati di cui al Capo C, lo condanna alla pena complessiva di anni 16 di reclusione e mesi 1 di arresto, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena così determinata. Anni 5 di reclusione per il delito di cui all'articolo 449,2 Codice Penale, applicato all'aumento per la colpa cosciente. Anni 10 di reclusione per l'ipotesi speciale di concorso formale di cui all'articolo 589, ultimo comma, Codice Penale. Anni 1 di reclusione per il concorso formale, ex articolo 81, primo comma, Codice Penale, tra i reati di cui al Capo C, previo riconoscimento e la maggiore gravità del delito di cui all'articolo 591, Codice Penale. Mesi 1 di arresto per i reati di cui al Capo B. Visti gli articoli 29, 30, 31 e 32, Codice Penale, dichiara Schettino Francesco, interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, interdetto dalla professione di comandante di nave per il periodo di anni 5, nonché in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Gli articoli 1082, comma, 1, numero 1, 1083, 1103 e 1097, Codice della Navigazione, dichiara Schettino Francesco, interdetto dal titolo, ovvero dalla professione di comandante, per mesi 4.